La seduta del 5 novembre. Dopo il dibattito sul Valdese, l'Assemblea ha approvato la legge di soppressione delle federazioni sanitarie sovrazzonali. Antenna Europa. In occasione del seminario per docenti per la trentesima edizione del concorso scolastico Diventiamo Cittadini Europei, è stato firmato a Palazzo Lascaris, tra il Consiglio regionale e la provincia di Torino, il protocollo d'intesa per la gestione dell'antenna Europa. Lo sportello informativo sulle tematiche europee sarà perso nell'ufficio relazioni con il pubblico, urpe e del Consiglio e sarà parte integrante di un sistema di 29 antenne già presenti sul territorio provinciale, ospitate dai comuni. Lo sport europeo sotto il nazismo. Lo sport europeo sotto il nazismo, dai giochi olimpici di Berlino ai giochi olimpici di Londra 1936-1948, è la mostra visitabile a Torino al Museo Diffuso della Resistenza fino all'8 dicembre. Realizzata dal Memorial de la Shoah di Parigi, la mostra è promossa dal Comitato Resistente e Costituzione, dagli assessorati alla cultura e all'istruzione con il Museo Diffuso, la Comunità Ebraica di Torino e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Culturale Rectoverso. Ricordo di Actis Perinetti. Intellettuale e poliedrico e di carattere riservato, Ludovico Actis Perinetti fu filosofo, docente e primo responsabile della Biblioteca della Regione Piemonte. A 15 anni della sua scomparsa, il Consiglio regionale, con il Centro Studi Gianni Oberto e il Centro Pannunzio, ha voluto ricordarlo con una commemorazione, proprio nella Biblioteca che egli contribuì a costituire. Margherita Paleologo e il Rinascimento Presentato a Palazzo Lascaris il volume, una protagonista del Rinascimento, Margherita Paleologo, duchessa di Mantove e Monferrato, edito dal Circolo Culturale i Marchesi del Monferrato e curato da Roberto Maestri. Per ricordare la nobile Paleologo e le vicende politiche sul finire del Rinascimento, sono intervenuti con il curatore i docenti universitari Blight Alice Raviola, Madrid, Alessandro Bianchi, Milano, Walter Habersumpf, Torino e Massimo Carcione, Grenoble.